Stavo riguardando veramente pochi secondi fa le fotografie che un pochino ho fatto in questo periodo, mi è venuta una riflessione che forse tra l'altro avevo letto su qualche blog o su qualche video, non mi ricordo purtroppo l'autore, però mi è venuto un pochino questo tipo di pensiero e ho piacere appunto condividerlo con voi. La fotografia è un ottimo linguaggio non solo per raccontare cose, ma per riflettere. Quello che mi sono accorto mentre stavo sistemando il mio portfoglio, perché comunque ci do sempre un attimo un'occhiata e un refresh sul materiale appunto che produco, mi sono accordo che le fotografie che mi colgono di più non sono altro che quelle che ti fanno riflettere quando le vedi. La fotografia secondo me, il produrre contenuti ed immagini, ha un suo senso ed ha un suo perché, cioè inizia ad essere un'immagine di valore quando la persona che sta vedendo quel tipo di scatto inizia a fare una riflessione, cioè inizia a pensare, chissà perché ha voluto scattare quella cosa, chissà perché ci sono quei colori, chissà in che posto era, cioè sono tutte domande che secondo me portano ad una riflessione. E secondo me è un concetto molto molto interessante, perché allora una buona fotografia, se effettivamente è una riflessione, significa appunto che non è solo un tema di tecnica, ma anche non è un tema di creatività, cioè non è un tema di la fotografia più curiosa, la fotografia più strana, quella un pochino più artistica nel senso diciamo di appunto di elaborata o quella più basica che uno può fare col telefono. Una buona immagine nel momento in cui ti fa riflettere è veramente un bene prezioso, cioè è un bene prezioso perché allora ha anche una fotografia fatta da un non fotografo, una persona appunto non addetta ai lavori, ma che comunque ti fa riflettere, che tu la vedi e ti fa fare le giuste domande, magari non ti dà una risposta, però ti fa fare, ti stimola appunto il tuo intelletto per capire, per farti delle domande, per andare ad approfondire magari un determinato tema. Bene, allora penso che quella è una buona fotografia. Non mi reputo nessuno, è puramente veramente una riflessione che mi è venuta da fare in maniera molto spontanea, dopo aver visto un po' di materiale, sono sempre immagini, visual artwork che ti portano ad una riflessione. Secondo me se una fotografia quindi per quanto bella sia tecnicamente, artisticamente, anche a livello di resa cromatica, di qualità del pixel, insomma tutto quello che potrebbe essere la qualità intrinseca dell'immagine, se non ti porta ad una riflessione, allora forse ha perso un piccolo pezzettino di quello che poteva dare. Quando c'è una riflessione, effettivamente c'è un valore aggiunto. Ecco, volevo solo condividere con voi questa riflessione. Secondo me è interessante perché se tu guardi con quest'occhio critico tutto il materiale che stai producendo, anche quello che ho prodotto io, quello che producono i colleghi, insomma, se il tema è se non mi fa riflettere, allora gli manca un pezzettino, beh, penso che sia un ottimo stimolo nella produzione futura di materiale. Adesso mi porrò anch'io questo problema, cioè quando scatto mi chiederò quella fotografia ha un valore aggiunto, racconta qualcosa, stimola una riflessione, o è una pura immagine di pixel, è una pura immagine di un mix di colori? Secondo me questa cosa qua è interessante, è molto interessante perché in un'epoca anche in cui non siamo tanto abituati a pensare, siamo abituati a vedere tanto, lasciarci scorrere davanti agli occhi un sacco di contenuti, allora anche regalarti un momento di riflessione, prenderti il tuo tempo, c'è anche un po' di filosofico dietro, quindi secondo me ecco, ecco, interessante. Volevo condividerti con te questa piccola riflessione. Dimmi pure cosa ne pensi, mi trovi qua sotto nei commenti, e se ti ha fatto piacere questo contenuto, iscriviti pure al canale che mi fa più che piacere. Al prossimo video!